Cominciamo questa parte di approfondimento e studio del TTV che ha iniziato ieri con uno spettacolo molto seguito e apprezzato di Maria Angela Gualtieri, prosegue ancora domani e dopodomani. Il TTV da alcune edizioni sta diventando anche un'occasione di studio rispetto al mondo di scoperta che è anche il premio Riccione perché non è soltanto il premio più antico di drammaturgia ma anche uno tra i più partecipati dove arrivano centinaia e centinaia di testi. C'è modo quindi di scoprire voci, tendenze ma anche di consolidare percorsi. Uno dei meccanismi di consolidamento che stiamo sperimentando da tre edizioni, ora ripremo la quarta, è proprio questo nuovo riconoscimento ovvero il premio all'innovazione drammaturgica. Che cos'è? Il premio all'innovazione drammaturgica è il tentativo di fotografare chi scrive per la scena in una maniera non necessariamente classica, quindi non soltanto il drammaturgo che consegna il testo ma anche in maniera legata a partire dalla sperimentazione sulla scena. L'Italia è una grande tradizione, tradizionalmente questi drammaturghi non partecipano ai classici premi e quindi abbiamo inventato con Simone Bruscia questo riconoscimento che è un riconoscimento ad un percorso, non è quindi un riconoscimento che va a premiare un singolo testo. C'è una giuria di critici che abbiamo scelto anche in maniera molto precisa legata al contesto dei 30-40 anni, quindi è una generazione che è cresciuta con questo tipo di teatro e che appunto dopo Chiara Ragani e De Florian Tagliarini ha premiato il percorso di Alessandro Berti, che noi avremo modo di vedere questa sera, avremo modo di parlare dei suoi libri, c'è un grande fermento anche editoriale e questo ovviamente da premio di drammaturgia ci fa estremamente piacere, quindi dopo lo spettacolo sarà possibile anche ascoltare una conversazione su quelle che sono le pubblicazioni, anche con Sergio Locatto che è qui appositamente. Nel mezzo avremo anche un documentario, un'intervista più che un documentario, però insomma impreziosita di materiali di repertorio che riguarda proprio la prima vincitrice del premio all'innovazione drammaturgica, Chiara Lagani, che avremo alle 6 prima dello spettacolo con Alessandro Berti. Domani invece andremo avanti con questo discorso di approfondimento, con un omaggio anch'esso doveroso a Vitalino Trevisan, che è stato uno dei nomi importanti dell'ultimo quasi ventennio del premio, perché ha partecipato a partire dal 2003, se non sbaglio, con diversi riconoscimenti a cui è dedicata appunto il teatro che racconta una dedica, anch'esso un modo di esplorare fuori dai riconoscimenti dei premi, una dedica ad un autore o ad un'autrice, abbiamo inaugurato con il presidente uscente della giuria, appunto Fausto Paravidino, che peraltro sarà presente domani, e rinnoviamo in questa edizione con un approfondimento di uno scrittore e drammaturgo che appunto ha tenuto questi due sguardi molto vicini. Un'ultima cosa, do la parola a Rossella Menna, che è qui in rappresentanza della giuria che ha assegnato questo premio, ma anche per introdurre il lavoro di Alessandro Berti. Questa occasione è per noi molto preziosa perché premiamo dei percorsi ma chiediamo in cambio una restituzione, quella che noi chiamiamo un alezio. Magistralis, non magistralis, non ci interessa. Una lezione sul metodo da lasciare a chi studierà la drammaturgia di questi giorni. Lo facciamo in collaborazione con l'Università di Bologna, sono materiali che sono pubblici a disposizione di tutti, significa entrare in quello che è la bottega degli attrezzi dell'artista, in questo caso della scrittura, sia essa pura o spuria, sul parco scenico o fuori da esso, insomma questo lo scopriremo. Per noi è molto importante che il lavoro fatto con i premi, con i riconoscimenti sia seminale non solo per i drammaturghi che sono artisti che lavorano in presenza oggi, ma anche per gli studiosi di domani che poi cercheranno di tracciare le fila, probabilmente meglio di noi che in questi tempi confusi li stiamo vivendo con grande apprezzione tante volte. Allora lascio la parola a Rossella che ringrazio anticipatamente per essere accolto nuovamente questo invito a cucire e a inquadrare un percorso e poi ovviamente all'Alezio Magistralis di Alessandro Berti. Grazie mille. Grazie mille, Graziano, molto felice di essere tornata qui, è diventato un appuntamento fisso ormai quello con il premio Riccione, col premio Riccione per l'innovazione nello specifico. e oggi per me è un momento, devo dire, veramente speciale, si dice sempre, però stavolta lo dico con sincerità, perché è raro avere Alessandro Berti in occasioni pubbliche come queste, sapete che oggi vanno molto di moda gli artisti appartati in posa, quindi sono appartati ma stanno sempre in scena, sono appartati ma sono sempre sui giornali, sono appartati ma praticamente li trovi ovunque, invece Berti è proprio appartato, nel senso che sta chiuso a casa sua, adesso in campagna, ma quando io l'ho conosciuto alcuni anni fa, Berti viveva a dieci metri da casa mia nel centro di Bologna, all'ultimo piano di un palazzo che se non ricordo male era della Curia e dove io la prima volta che ci sono andata, ci sono andata perché Berti mi aveva invitato per raccontarmi quello a cui stava a lavorare, a un nuovo progetto a cui stava lavorando e voleva leggermi qualcosa più che raccontarmi, quindi io vado in questo palazzo, comincio a salire le scale e vengo letteralmente spazzata via da una frotta di ragazzi in ciabatte e pantaloncini, ragazzi neri, in ciabatte e pantaloncini ma allegrissimi, era un disastro quel palazzo di rumore e scopro, poi dopo me lo racconta lui, che in realtà erano tutti appena sbarcati ed erano richiedenti asilo, quel posto era uno sprarre essenzialmente, poi magari lo racconti tu meglio, questo perché vi ho detto questo? Per dirvi che Berti si era costruito il suo teatro abusivo, adesso non esageriamo, abusivissimo, all'ultimo piano di questa palazzina dove aveva appunto montato tutto quello che gli serviva per fare i suoi laboratori, i suoi spettacoli, ci viveva anche, era un atelier, un vero atelier, era un vero atelier, poi ci dirai... zona notte, zona giorno... Eh appunto, ci dirai quanti ne hai costruiti negli anni, no, di questi atelier? Meglio di no. Appunto, tanti, perché appunto Berti non ha mai ricercato il suo spazio nel teatro ufficiale, se l'è sempre andato a cercare, lui ha cercato sempre di costruirsi non solo un percorso laterale, ma anche proprio uno spazio in cui fare quello che gli pareva, quello che desiderava fare, e mi colpì molto il fatto che quando sono arrivata in questo spazio appartato che si chiamava Casa Vuota, il testo che mi lesse era un testo che si chiamava Il Cazzo del Negro, se ricordo bene, giusto il titolo era giusto? Esattamente. Ed era, come dire, un preludio a quello che poi sarebbe diventata la trilogia. Più educatamente, Black Dick che vedrete. Certo, molto educatamente in inglese. Ed era appunto un, come dire, un prologo a quello che poi sarebbe diventato un progetto lungo sul rapporto, sullo sguardo del bianco sul corpo del nero. Quindi, cioè, l'ho trovato proprio in mezzo alle cose, no? In quel palazzo stava nel centro di quello che stava raccontando. Perché dico tutte queste cose? Per provare a entrare nel vivo della sua scrittura. Che cosa mi ha sempre molto colpito di Berti, che poi è anche quello che abbiamo premiato, no? Noi viviamo in un momento storico in cui sta prendendo largamente piede un'idea di teatro che è fortemente, tristemente legata all'idea di uno svolgimento di temi. E allora dobbiamo fare lo spettacolo sul tema dei migranti che muoiono in mare. Allora dobbiamo fare lo spettacolo sulla Queerness. Allora dobbiamo fare lo spettacolo sui temi caldi. Che per carità, come facciamo a dire che non sono temi caldi, no? Sul riscaldamento globale. Poi lì ci sarebbe da aprire un lungo discorso su quanto è complicato svolgere quel tema lì. Ed è il tema della mia lezione. Appunto. Allora voi direte, beh, però Berti si è occupato appunto di corpi neri, si è occupato di Islam, ha fatto uno spettacolo in cui cerca di smascherare, di demistificare anche il nostro sguardo, no? Cattolico, cristiano rispetto al radicalismo dell'Islam che poi in realtà in qualche modo appartiene anche a noi se la prendiamo da un altro lato. Storicamente, e questo lo devo a Ignazio De Francesco, storicamente il martirio cristiano è l'origine del martirio islamico. Quindi, vedete, ci sono temi importanti nella sua drammaturgia, però perché non mettiamo questo suo modo di lavorare dentro il calderone di oddio un altro spettacolo sul razzismo, oddio un altro spettacolo sul cambiamento climatico? Perché Berti riesce a cuscire, riesce a fare quello che fa un drammaturgo, un uomo di teatro, cioè riesce a cuscire una dimensione di discorso pubblico con una dimensione di discorso privato. Cioè, il mondo lo guarda dalla sua postazione e il teatro non è utilizzato come un megafono per dire delle cose che già sa, che ha già letto, che ha già studiato. Il teatro è l'occasione per aprire un ragionamento e questa cosa in scena si vede perché durante i suoi spettacoli è come se noi assistessimo all'azione, sapete che il teatro è azione, no? Anche etimologicamente, se non c'è azione semplicemente non si dà il dramma, non si dà il teatro. In genere Berti è solo in scena, al massimo c'è un'altra persona, quindi è un dialogo e non succede niente, cioè non ci sono azioni nel senso di una trama che parte da un punto A e arriva a un punto B. I suoi testi sono testi in cui semplicemente si ragiona, quindi quello a cui noi assistiamo è lo svolgersi di questo ragionamento sulla scena. Quindi, diciamo, per noi era importante premiare questa capacità di stare nel centro del presente senza però rinunciare alla potenza della scrittura e dell'arte che è quella di non partire mai da questioni predeterminate ma di dare ampio spazio a tutte le possibili stratificazioni della coscienza, in certi casi, ma dei fatti anche, no? La famosa complessità. Io direi che intanto con questa mia introduzione mi fermo, però io vorrei farti una domanda prima di lasciare, diciamo, a te la parola per il tuo speech. Ho raccontato brevemente che ti sei occupato appunto di religione, ti sei occupato di cambiamento climatico con il nuovo testo Le Vacanze, che è appena uscito, ti sei occupato, abbiamo detto, del corpo, dello sguardo bianco occidentale sul corpo del nero. Sono tutte cose che potremmo serenamente trovare in un saggio, no? Peraltro tu sei molto bravo a scrivere e ancora più bravo a parlare, dopo lo sentiremo perché ci proponi appunto uno speech. E allora, why theater? Perché il teatro? Cioè, perché poi tutte queste cose non trovano il loro precipitato ideale in un saggio, in un documentario, in un testo di altra natura, ma in un modo o nell'altro torni sempre al teatro. Io proprio sono, diciamo, la mia infanzia è teatrale, quindi io esordisco a otto anni in una farsa in dialetto reggiano, in parrocchia molto popolare, Tugnette alla Mariana, in cui io facevo la parte della Mariana, della donna, e facevo le imitazioni di Bigel Bosè, di tutti i cantanti quando ero piccolo. Quindi nella mia famiglia era chiaro che io dovevo essere un performer, non c'erano dubbi. Però poi nell'adolescenza, diciamo, un po' con questo tappo familiare di essere così dotato nel lato performativo, in realtà ho scoperto la grande passione, la mia salvezza della lettura e della scrittura, e quindi queste due cose sono andate in parallelo. Quando sono entrato allo stabile di Genova, a 18 anni, la mia grande insegnante, Anna Laura Messeri, la prima cosa che ci ha chiesto è qualcuno di voi scrive? Allora io subito, io, ecco, dimenticalo. Questo me lo ricordo benissimo, no? E io ho umiliato sulla mia piastrella di Via del Campo, di quel bellissimo palazzo seicentesco in Via del Campo, però aveva ragione, perché le due cose, in realtà io le ho sempre coniugate attraverso una lotta, no? Attraverso, appunto, un'azione. Quindi per me il teatro è fondamentale. C'è anche un'altra cosa da dire. Io sono molto anarchico, diciamo, profondamente, nel senso soffro moltissimo la struttura e le strutture. Quindi, per esempio, e parlavamo anche l'altro giorno, io, quando mi sono iscritto allo stabile di Genova, mi sono anche iscritto a lingue, perché comunque ero uscito col massimo di voti dal liceo, avevo una grande passione per le lingue, e l'ho ancora, e quindi mi sono anche iscritto a lingue, perché c'erano dei professori, insegnanti straordinari, in quegli anni, inizio agli anni 90, alla Facoltà di Lingue di Genova, e non ho dato neppure un esame. Perché quando, diciamo, sono entrato nella ritmica della burocrazia o della questione scolastica, normale, io ho subito capito che non sarebbe stato il mio mondo, e per la, diciamo, costernazione della mia famiglia, ho annunciato che non avrei continuato l'università, ma avrei fatto una scuola professionale, perché quello era lo stabile di Genova, tra l'altro manco finendola, perché io e Michela siamo scappati tre mesi prima del diploma. Michela Ducenti. Tre mesi prima del diploma, quindi manco finendo la scuola professionale, che era una degradazione dal liceo, ovviamente. Quindi, insomma, per dire che la carnalità, la fisicità del teatro mi appartiene. Peraltro a Genova io ho imparato questa cosa che poi con Sergio Logatto, anche lui mi ha riconosciuto in Blind Love, questo tocco british, cioè questo lavoro sulle pause, questo lavoro sulle sillabe finali, questo lavoro, o che parlavamo prima di Trevisan, che riesce, con il linguaggio veneto, a ridare quell'elemento consonantico, io l'ho imparato lì. E poi l'ho messo in pratica, però in modo molto personale, nel mio primo spettacolo, Scancrer, che è uno spettacolo in dialetto emiliano, quindi tutto consonanti, quindi in qualche modo più vicino all'inglese, quella lingua o al francese, no, più all'inglese o al tedesco, che non all'italiano, piano, musicale, eccetera. Quello però, come dire, è un lavoro che ha sia questa durezza, appunto, british, ma anche poi, come dire, il calore e la libertà che mi veniva dall'incontro con Leo, insomma, con Leo De Berardins, e poi dai testi di Viviani, che per me sono stati importantissimi, da ragazzino, per capire come fare a mettere in scena un teatro di parola, ma fisico. E poi, vabbè, con Michela, dopo abbiamo sviluppato negli anni 90 quel gioco lì. Quindi, insomma, il teatro, il corpo, il corpo della parola, la parola del corpo, questa cosa qua è imprescindibile. Poi io soffro a stare troppo allo scrittoio, perché mi agito, quindi mi devo alzare, adesso un po' meno, ma infatti sto scrivendo di più, si vede, andando avanti un pochino, sto abbastanza bene, seduto, tranquillo. Però, insomma, nella mia vita, finora, in questi primi 50 anni... Ma le cose mentre le scrivi, le leggi anche? Certo, certo, certo. Io leggo, anzi, questo è un mio problema, perché invece che seguire il filo, seguire il plotto, seguire il senso, io subito rileggo per capire se il ritmo tiene e non funziona, perché dovrei invece stare tranquillo e fare una prima stesura come viene, invece non riesco, e questo è proprio l'attore che lavora mentre scrive. Hai citato Leo, hai detto una parola che mi è carissima, calore. Mi viene proprio da farti questo complimento in questo momento, la capacità di tenere insieme l'intelligenza e il calore, che è una cosa così rara, no, nel teatro. Allora vorrei chiederti quali sono state le tue fonti, quali sono, io ho tentato di ricostruire e in più occasioni, la ricca bibliografia dalla quale, come dire, sei stato condizionato e dentro c'è da Edoardo De Filippo a Leo De Berardinis, a tantissimi scrittori e scrittrici stranieri ed è molto difficile provare a capire veramente da dove arrivi e allora provo a chiederti intanto appunto cosa hai letto che ti ha condizionato in maniera particolare ma anche oggi quando devi scrivere i tuoi spettacoli da dove parti, cosa fai, ti documenti con i giornali perché appunto quali sono le fonti di questi tuoi lavori che poi appunto riescono a portare anche perché te lo chiedo perché uno potrebbe dire vabbè parli di Black Dick e la tua fonte è il giornale, no, e sono, no, perché c'è anche una verticalità dello spirito e allora questa verticalità oltre all'orizzontalità dei dati che raccogli e che produci perché la cosa interessante di Berti è che i documenti non li raccoglie soltanto li produce e per esempio andando a guardare dove non guardano altri in Black Dick i suoi documenti non esistevano e il suo sguardo sulla pornografia che ha prodotto dei documenti nuovi quindi questo poi è anche il valore aggiunto però torno alla mia domanda questa verticalità dello spirito che si intersega invece ai dati ha un'ispirazione cioè da dove nasce? Questa è una domanda importante e difficile diciamo che io nasco in una famiglia molto semplice in cui mia madre leggeva intimità mia madre era una parrucchiera e mio padre è tutto sport quindi questa è diciamo le fonti di base però è una famiglia che ha diciamo invece investito molto proprio per questo sulla istruzione come valore sociale dei figli e quindi io diciamo questa cosa l'ho sentita sempre molto forte questo rapporto e anche questo sentimento etico nel senso che diciamo il mio mestiere se fosse stato artistico me lo dovevo davvero guadagnare socialmente perché insomma era un mestiere considerato davvero equivoco dal mio ambiente e insomma sappiamo che sappiamo quello di cui stiamo parlando però questo l'ho sempre sentito in più ho aggiunto diciamo a questo elemento diciamo dell'etica del lavoro che mi viene profondamente dalla mia famiglia il discorso cristiano che invece mi sono scelto assolutamente da solo la mia famiglia è una famiglia laica questo è un bel mistero eh mi sono scelto da solo allora mia madre ha una religiosità penninica però insomma un po' pagana però insomma ce l'ha un pochino però io davvero come dire proprio per andare contro da adolescente qui l'adolescenza c'entra tanto tanto questo che vivevo un po' come come dire conformismo diciamolo come come va detto da adolescente il conformismo dei miei genitori no quindi di sinistra insomma brave persone di cui non si poteva dire nulla eccetera io ho diciamo trovato nel così nel nel vangelo in realtà io andavo in parrocchia ma mia madre mi mandava mio padre mi fregava niente e mia madre mi mandava in parrocchia perché la parrocchia mi togliesse dalla strada siccome tra la mia casa e la parrocchia c'era un parco c'è ancora un parco che era il luogo diciamo dei tossici di Reggio di Reggio Emilia quindi mia madre era un po' preoccupata che io giocassi otto ore al giorno in quel parco e quindi mi spedì alla parrocchia quello che successe è che io di solito le cose le prendo alla lettera le prendo veramente di petto e quindi io ci credevo a quella cosa profondamente quindi cominciai a fare catechismo ai bambini andai all'urda a fare il bareliere con i malati cioè la presi veramente di petto questa cosa tanto che il parroco pensò che ci fosse una possibilità di vocazione mio padre subito si agitò moltissimo quando sentì questa cosa qua poi in realtà diciamo questa cosa decadde nel senso dopo il liceo io volevo fare il teatro ma andai a Genova e abbandonai tutto quell'ambiente ma diciamo alcune parole chiave che poi ho ripreso un po' pochi anni fa insomma in quel mio in quella mia ricerca su un'area di testi mistici diciamo cristiani secondo me molto belli molto misteriosi molto importanti che spiegano secondo me anche alcune cose proprio del modo in cui affrontiamo le questioni anche odierne compreso il collasso diciamo climatico di cui poi parliamo appunto alcune parole chiave mi arrivano da lì alcune proprio come dire alcuni come dire riflessi profondi di fronte a quello che accade tu hai parlato di temi in realtà io non ho mai vissuto come temi la fonte dei miei spettacoli tu hai parlato di casa vuota in via San Felice quello non era un tema quello era un cazzotto in faccia perché questi ragazzi tutta la notte erano appena arrivati avevano incubi dal viaggio in mare nel Mediterraneo c'era un via vai anche strano equivoco io ero l'unico vicino l'unico vicino italiano bianco che andava giù a contrattare con loro che cosa una possibilità di convivenza e anche a cercare di capire quella situazione quindi il punto di vista mio il punto di vista loro è stata una grande scuola ma molto molto difficile insomma la cooperativa li aveva lasciati lì in balia di che cosa di un ghetto e infatti poi questo mi ha colpito infatti poi quando siamo andati via noi da casa vuota diciamo la proprietà ha messo un'altra come dire un altro appartamento con altri ragazzi cioè ha creato un ghetto di 40 ragazzi proprio perché come dire non ci fossero interazioni con italiani e questo è quindi questo ma per dire anche parlare dell'islamo del cristianesimo rispetto all'integralismo quello è nato dall'incontro con Ignazio De Francesco non avrei mai pensato nonostante appunto questa cosa che abbiamo detto delle mie origini anche culturali in parte cristiane ma non avrei mai pensato che poi avrei parlato di quella cosa di quella nuance perché Ignazio mi ha convinto che fosse necessario e che fosse importante e intrigante in un momento in quel momento in Europa di terrorismo a livelli molto alti invece parlare di da dove veniva quella cosa che non era come dire scontata quindi non sono mai temi come dire che io sono folgorazioni sempre a metà tra il biografico e il culturale e l'intellettuale per chiudere su questa cosa che mi chiedi sulle mie fonti io sono un lettore come si vede vorace fin da ragazzo e ne parlo ne parlerò dopo sì diciamo i due luoghi che frequentavo erano gli unici due luoghi gratuiti di Reggio Emilia cioè la chiesa e la biblioteca perché era già questo nel senso che gli unici luoghi dove non pagavi da ragazzino siccome non avevo soldi erano la chiesa la parrocchia e la biblioteca Panizzi la biblioteca comunale quindi questi sono i due luoghi che io ho bazzicato e la biblioteca è stata proprio la mia casa mi ricordo che appunto telefonavano le bibliotecarie a casa dicendo è già arrivato il libro per suo marito e mia madre diceva mio marito in biblioteca guardi non credo proprio ma Berti Alessandro dice no guardi mio figlio ma quanti anni ha 14 no ma non è possibile perché ordinavo delle cose magari che leggevo su allora c'era questo questo quotidiano in inglese questo settimanale in inglese che si chiamava The European non so se ve lo ricordate ha avuto vita brevissima però io leggevo The European a 14 anni cioè era un pazzo era un nerd assolutamente pazzo oppure ricordo benissimo con Gaia ne abbiamo parlato quando Shasha scrisse i professionisti dell'antimafia sul corriere io c'è una foto che lo testimonia che ho quel numero del corriere al mare a Ostuni con mio padre che legge tutto sport e io mi ricordo che da lì poi nacque la mia passione perché l'ho avuta per Falcone per quella storia quindi ero assolutamente una mina vagante già da adolescente un pazzo inclassificabile va bene allora noi ci accomodiamo e ascoltiamo il tuo speech grazie 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 a tutti